Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare e raggiungere la falda acquifera. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare. abbiamo una fonte d'acqua potabile sicura. Mi sento già meglio. Le nostre provviste scarseggiano. Spero non ti dispiace aiutarci. Se vogliamo stabilirci qui, dovremo iniziare a coltivare la terra. Che genere di piante ti interessano? Non ha importanza. Tato, frutti mutati, grano, qualunque cosa riesce a far crescere. Voglio solo scambiare alcune cose. Trova un luogo favorevole e semina quello che hai. Avere cibo fresco sarebbe una svolta per noi. Ti prego. Ho bisogno di restare un po' da solo. Voglio scambiare alcune cose. Sì? Vorrei scambiare delle cose. Mi dispiace, non ti sarai di grande compagnia in questo momento. Sì? 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 Grazie a tutti. 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 vorrei scambiare. a tutti. 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 a tutti.